Siamo a San Lorenzo in campo per parlare di turbogas. L'evento è stato organizzato dall'assessorato all'ambiente del comune insieme con il gruppo Fuori Tempo di San Michele al Fiume. Con noi c'è un tecnico specialista esperto di centrali elettriche, il signor Giorgio Ferrari Ruffino. Buonasera. Lei ha lavorato con il nucleare, con Enel, per circa 40 anni? Sì, 41 anni. Poi ha lasciato nell'87 o ha cambiato, è diventato obiettore di coscienza. Per quale motivo? Per quanto riguarda le centrali nucleari perché dopo Chernobyl era diventata insostenibile questa mia posizione da un lato di essere un esperto, quindi di fare per l'azienda dei servizi specifici sul nucleare, in particolare sul combustibile nucleare, però è questo grande evento catastrofico, drammatico che aveva procurato tanti danni, quindi risolsi la questione chiedendo all'Enel di non lavorare più nel settore nucleare. Questa cosa l'ha segnata, insomma, nella coscienza? Sì, mi ha segnato molto nella coscienza, anche per qualche anno sotto il profilo professionale, perché ovviamente fui messo un po' in disparte, poi ripresi un altro tipo di attività all'estero, insomma, nel campo idroelettrico, termoelettrico, insomma, in altri settori. E di centrali termoelettriche cosa ci può dire? Come funzionano i problemi che danno? Ma questo tipo di centrali, come questa qui di Corinaldo, diciamo, dal punto di vista dell'efficienza sono le migliori che oggi ci sono sul mercato, perché hanno grandi rendimenti. Quello che non è ancora risolto ed è anzi piuttosto problematico è il grado di inquinamento che danno questi impianti. Inquinamento atmosferico soprattutto, perché le grandi quantità che vengono emesse di sostanze inquinanti, nonostante le migliorie che ci sono state dal punto di vista tecnologico, rappresentano ancora un serio pericolo per la salute umana e anche per l'ambiente in se stesso, insomma, e molto dipende dal tipo di normative che vengono applicabili. Quella italiana io non credo che sia tra le migliori, insomma. Quindi parliamo anche di nanoparticelle? Direi soprattutto di quelle, soprattutto delle nanoparticelle, le PM10, ma oggi l'attenzione va focalizzata sulle PM più piccole, le 0,25. Le 2,5, sì, quelle che entrano maggiormente nell'organismo e creano danni. E creano danni ed è più difficile ovviamente da monitorare, costa di più, però il miglioramento della qualità della vita credo che esiga giustamente questo sforzo. La cosa non va solo alle persone ma anche all'ambiente stesso, oltre che all'aspetto estetico che poi nocerà un po' all'ambiente, la turbogas, anche un'altra cosa. Sì, più che l'aspetto estetico, c'è anche quello come qualsiasi opera da questo punto di vista, però l'impatto è soprattutto dall'accumulo che c'è nel tempo di queste emissioni, perché bisogna pensare, insomma una centrale normalmente è progettata per vivere almeno, per funzionare 40-50 anni, forse anche di più, comunque questo è l'ordine di grandezza. Quindi nel tempo è un danno che si cumula, gli effetti si vedono purtroppo posticipati nel tempo, insomma. Quindi pensarci prima significa fare una valutazione molto accurata e questo esige che ci sia attenzione da parte delle autorità competenti che rilasciano i permessi e che ci sia sempre un aggiornamento nella normativa di controllo e che i controlli vengano effettuati durante tutto l'esercizio dell'impianto. Una buona informazione anche dei cittadini che sappiano quello che sta succedendo. Direi che è fondamentale perché oggi non è più il tempo in cui si può dire state tranquilli, ve lo dice un esperto, insomma, no? Se viviamo nell'epoca della comunicazione credo che molti cittadini, insomma, cominciano a interessarsi e ad apprendere da soli, insomma, quindi bisogna tenere in considerazione che è cresciuto sia il livello di attenzione, di conoscenza ma anche il livello di coscienza dei cittadini. Quindi è giusto prenderne atto e comportarsi di conseguenza. Va bene, noi la ringraziamo. Prego.